Una lunga conferenza stampa della dirigenza del Brindisi con il presidente Arigliano che ha criticato quello che è stato definito il brindisino medio, chiedendo risposte in termini di presenza e a partire dalla sfida contro il Barletta di Domenica, mentre il DG Valentini non si è più nascosto dichiarando apertamente che il Brindisi vincerà il campionato. Poi il passaggio su Ciro Danucci, blindato da tutta la società che ha confermato la fiducia anche alla squadra in attesa del mercato di riparazione. Chiediamo la risposta che secondo me questa società e questo gruppo merita e quindi era più che altro per chiarire determinati punti dove secondo me si è andato un po' troppo oltre i limiti del giusto giudizio per una prestazione non eccellente. Ma non è il caso di creare allarmismi, sono passate solo dieci partite. Abbiamo due partite importantissime, una in casa con il Barletta e una fuori casa con il Fasano, dove sicuramente dobbiamo cercare di centrare degli obiettivi importanti per rimanere attaccati alla vetta della classifica. Brindisi non avrà altro allenatore fino al 30 giugno del 2023. Il mister Ciro Danucci è stato fortemente voluto da me, che sono il presidente e socio di maggioranza di questa società. È un mister che fa un calcio moderno, un calcio che a me piace, difficile da trovare in D e anche in parecchie squadre di Lega Pro. È un mister che stimiamo infinitamente, che lavora duro e quindi non credo sia giusto oggi parlare di esonerare un mister come Ciro Danucci. Io credo che siano stati in pochi a credere sin dall'inizio che il Brindisi potesse solo partecipare a questo campionato, ma è più che giusto puntare in alto, è inutile nascondersi dietro a un dito, Brindisi merita altri balcoscenici, starà a noi tutti assieme nel più breve tempo quello di centrale.